quando fai della musica? ok! oh... ok! 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 ... ... ... ... ... No, 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 la persona che non si tiene sotto la mano, è inedua, è in giudico. No, 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 la persona che non si tiene sotto la mano, è in giudico. No, 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 la persona che non si tiene sotto la mano, è in giudico. No, 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 la persona che non si tiene sotto la mano, è in giudico. No, 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 la persona che non si tiene sotto la mano, è in giudico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.